Tre turisti asiatici scrivono all'ansia il primo cittadino di Venezia per segnalargli quella che allora è parso un'anomalia. Erano andati a pranzo in un ristorante vicino Piazza San Marco e il conto, 562,50 euro, era sembrato esoso. Nessuna intenzione di chiedere un rimborso, ben inteso, solo la volontà di mettere in guardia il sindaco per salvaguardare la reputazione di Venezia minata da certi comportamenti. A priticello, Luigi Brugnaro senza freno ha commentato pezzenti, uno mangia e beve, poi dice che non sapeva la lingua, ma se vieni in Italia, dice il sindaco di Venezia, devi imparare l'italiano e anche un po' di veneziano non farebbe male. Inutile dire che l'ennesima uscita, battuta, sopra le righe del sindaco Brugnaro ha fatto il giro del mondo tramite i media e i social, scatenando una valanga di reazioni a favore, perché sì, è ora di dire basta e picnic, chi va a Venezia deve spendere, se no può stare a casa sua, e contro di chi è inorridito di fronte a un'espressione che certamente porterà un documento a una città e a un indotto geografico che di turismo vive. L'episodio segnalato dai tre asiatici non è evidentemente isolato, le cronache pullulano di racconti di conti astronomici presentati da spregiudicati osti veneziani, abili a spennare lo straniero di turno. Ma Brugnaro anche oggi ha tirato dritto, se venite a Venezia siete i benvenuti, ma dovete spendere.